Ciao a tutti e benvenuti in questa nona recensione dedicata ai gioielli Le Bebè. Nasce nel 2007 da un'idea vincente di Luce Bianca, azienda di proprietà della famiglia Verde. Il concetto di partenza è straordinario nella sua semplicità, il piacere di indossare qualcosa di unico e speciale che testimoni i propri sentimenti, le proprie emozioni e i propri traguardi personali. Il primo grande successo è il famosissimo conoscendo la forma stilizzata di maschietto o femminuccia. Nel 2018 Le Bebè, per la prima volta, introduce una collezione di gioielli componibili dedicata non più solo alle mamme di domani, ma a tutte le donne di oggi. Lock Your Love, gioielli esclusivi che racchiudono un messaggio d'amore e un augurio speciale. La collezione Lock Your Love è caratterizzata da bracciali componibili attraverso preziosi moschettoni a forma di cuore, nei quali è possibile inserire esclusivi charm che racchiudono messaggi d'amore o che semplicemente rappresentano un desiderio e vanno ad affiancare gli iconici bimbo e bimba, simboli identificativi del brand. Grazie, chiudo ricordandovi che anche quest'anno Le Bebè ha dedicato un gioiello per la festa della mamma e una promozione associata ad essa. Per maggiori dettagli collegatevi al link sotto in descrizione. Non perdetela, è valida fino al 12 maggio. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Alla prossima, ciao!